In poco meno di un anno il super bonus 110% ha permesso l'apertura di diversi cantieri con decine di palazzi e condomini che hanno approfittato degli sgravi promossi dal governo per rifare interni e facciate. E sono tantissime le ditte di edilizia che lavorano sprombattuto in diverse zone della città con un grande incremento delle opportunità lavorative. Ma tanti cantieri significano anche tanti detriti da eliminare. Tonnellate di scarti della lavorazione edile che andrebbero smaltite seguendo le procedure di legge per essere poi conferite in discarica. Procedimento però che non sempre va a buon fine. In questi giorni siamo andati in giro per le campagne lungo la strada provinciale 8 che collega Gela e Butera e abbiamo scoperto appena al di fuori del perimetro urbano e in diverse viuzze di campagna numerose discariche abusive a cielo aperto. Luoghi protetti per incivili di ogni sorta che al riparo da controlli e da telecamere scaricano ogni tipo di rifiuto nei campi circostanti la città. Dove ci sono delle trazzere un po' isolate troviamo questi scempi. ultimamente anche su Butera, perché non si può escludere anche Butera da questa situazione, ho notato che dopo il 110% a quanto pare i rifiuti edili e non edili sono aumentati in queste trazzere di campagna. Molte ditte lavorano a 360 gradi rispettando le regole ma ci sono oltrettanto ditte che non si fanno scrupoli ad abbandonare i rifiuti. E dalla SP8 alla vicina strada dei due castelli la situazione non cambia. Basta spostarsi di pochi chilometri qui siamo sulla strada dei due castelli a pochi chilometri alla SP8 e sul bordo della strada non appena siamo entrati in una delle trazzere guardate questa è tutta guaina che si usa per la copertura dei tetti anche questo frutto di qualche cantiere edile. Cambia invece la strategia di chi scarica nelle campagne non più punti fissi con discariche enormi ma tante micro discariche sparse ovunque nelle trazzere. La gran parte è sempre riconducibile a ristrutturazioni edilizie. Vanno a scaricare uno due viaggi e passano. Lì più avanti trovi un altro viaggio più avanti trovi un altro viaggio. Poi cambiano zona perché hanno paura però rischiano perché la sera tu vedi quei furgoni i daily soprattutto i daily di proprietà di alcune ditte di alcune giusto non sono tutte che poi fanno questo tipo di attività. Se noi andiamo a vedere i rifiuti che troviamo sono rifiuti di imballaggi sono tutti rifiuti di imballaggi riconducibili al 110 per cento perché questi sono materiali dove ci sono messi i prodotti per le facciate e poi tutti gli imballaggi che magari fanno diciamo prima a scaricare in campagna non costa niente e quindi poi bruciano perché tutto quello che potrebbe essere un documento viene bruciato come abbiamo visto in diversi siti come abbiamo visto poc'anzi lì dove ci può essere un qualcosa di riconoscibile quando scaricano loro lo bruciano. Quindi queste sono le tecniche che utilizzano adesso questi signori. Eppure sarebbe facile ricostruire il percorso di questi rifiuti attraverso i semplici controlli dei formulari? Allora è solito chiudere un lavoro perché il comune poi per poter chiudere il lavoro ha bisogno dei formulari dove loro hanno smaltito nelle campagne diverse tonnellate di rifiuti poi con un semplice formulario di una tonnellata due tonnellate vanno a chiudere quello che era centinaia e decine di tonnellate quindi i controlli vanno fatti